in tantissimi mi chiedete sempre come amo cucinare la rucola soprattutto ora che sta arrivando la primavera lo sapete io ne vado pazzo perché è buonissima è ricca di calcio sali minerali ferro e vitamina c si può mangiare in mille modi in insalata sulla pizza oggi però con gli amici di euro spin voglio preparare un piatto di spaghettoni con un pesto di rucola mandorle e pecorino e per finire il piatto le mie amate alici per un pieno di omega 3 intanto frulliamo la rucola con mandorle pecorino insieme a qualche cucchiaio di olio a mi raccomando mettiamoci anche qualche cucchiaino di acqua fino a ottenere una crema morbida frulliamo la rucola con mandorle pecorino insieme a qualche cucchiaino di acqua fino all'inizio frulliamo la rucola con mandorle pecorino insieme a qualche cucchiaino di acqua fino all'inizio una volta pronti gli spaghetti mi raccomando scoliamoli al dente andiamo a condirli con la crema ottenuta frulliamo la rucola con mandorle pecorino insieme a qualche cucchiaino di acqua fino all'inizio come tocco finale aggiungiamo le alici tagliuzzate e poi serviamo amici eccolo qua spaghettoni con pesto di rucola e alici buona primavera a tutti iscriviti al canale